Buongiorno a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un videocorso breve, essenziale, su una risorsa web perfetta per i docenti della lingua straniera, francese, inglese e non solo, ma anche ottimale per tutti noi, docenti ed alunni, nei contesti in cui vogliamo verificare la corretta pronuncia di un termine, preferibilmente ascoltato non dal classico sintetizzatore vocale, ma in realtà da una voce umana. Parlo di Forvo, sito di riferimento it.forvo.com consultabile da un qualunque browser e qualunque dispositivo e utilizzarlo da ospiti senza registrazione è semplicissimo perché io vado a cliccare in cerca una parola, in questo caso io digito bonjour, il classico saluto francese, si scrive bonjour come vedete, poi clicco sulla mia lente bianca su campo azzurro ed ecco che la parola chiave bonjour viene analizzata all'interno del database di Forvo ed ho differenti pronunce su differenti lingue, ad esempio per la lingua francese ho 28 pronunce e l'aspetto interessante, come ho ricordato ad inizio videocorso, è che la pronuncia qui non deriva da sintesi vocale ma deriva da un utente, un utente registrato, uomo, donna, con differenti anche inflessioni per cui Forvo si candida ad essere una ottima risorsa naturalmente ed alternativa al google traduttore che ci consente poi di ascoltare già durante il suo utilizzo le pronunce. Ed ecco che abbiamo sia la pronuncia del termine singolo che le parole e frasi correlate, altro aspetto interessante. Io clicco sul triangolo bonjour e con il triangolo bonjour ascolto la dizione unica, ma se clicco sul termine bonjour posso scegliere, verificando anche gli utenti, ed una valutazione di base sia numerica in termini di voti che di qualità buona scarsa su quelle differenti pronunce che possono essere di utente uomo Francia o di utente donna Francia. Con un clic, ecco la pronuncia al femminile. La registrazione e iscrizione, iscriviti e registrati sono la medesima funzione, ci permettono, e questo è l'aspetto cooperativo di Forvo, di divenire contributori ed offrire per quanto concerne la nostra madelingua anche la nostra pronuncia. Bene, spero di esservi stato utile, come sempre a voi la consultazione e poi l'utilizzo di Forvo. Vi do già appuntamento al nostro prossimo videocorso sempre qui sul canale youtube.com slash trainerandrea. Buon pomeriggio ed un saluto ancora da Andrea Cartotto.